è lontano adesso dove sei ho fatti vedere è riccardo che mi sta raggiungendo ma io sto tenendo la testa di te oddio 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 ma è fantastica una tenuta di strada pessima questa roba però è divertente è bellissimo cioè queste sarebbero le nostre moto ufficiali del tour esatto io non sapevo niente di questa cosa le moto ufficiali del tour del tour fantastico fai vedere questa? eccomi qua! una bellina oh ah vedi che fanno le cose cioè questa se l'è fatta se l'è fatta bellino elettrico? completamente fantastico bene oh così almeno negli stadi ci muoviamo agevolmente ma visto che si fanno bene guarda